L'ungare. Stamattina il soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla centrale del Suom di Vicenza per un free climber volato per alcuni metri nella palestra di roccia di Lumignano sui colli berici. L'uomo di Monte Galda, che era rimasto in parete, è stato calato sul terrazzino sottostante dai soccorritori e stabilizzato dal personale sanitario dell'ambulanza a seguito di una possibile lusazione alla spalla. Caricato in barella, l'infortunato è stato trasportato per 200 metri fino all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale.